Questa fascia porta bebé che ci sta piacendo un sacco e vi sta anche piacendo un sacco perché me l'avete chiesta in tantissimi io l'ho acquistata attraverso un'applicazione che si chiama Letyshops, ve ne parlai se non sbaglio la scorsa settimana è un'applicazione di cashback, voi selezionate lo store che vi interessa e ce ne sono veramente tantissimi io questa ad esempio l'ho acquistata attraverso l'applicazione da Prenatal effettuate il vostro acquisto e al momento del checkout una percentuale di cashback vi verrà accreditata nell'applicazione poi voi potete decidere se portare il vostro credito direttamente nel vostro conto è secondo me un ottimo modo per risparmiare dei soldini ultimamente sto effettuando tantissimi acquisti attraverso l'applicazione oggi proprio l'11 novembre ci sono tantissimi extra cashback quindi date un'occhiata io vi lascio il link qua giù per scaricare l'applicazione in vista del Black Friday ci sono va bene perché bambini piccolini mi sembra un'ottima idea questa fascia porta bebè ci vediamo alla prossima fascia ciao